Questa è una selezione interzonale, partecipano i ragazzi nati dal 2000 al 2005 delle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Abbiamo ottenuto l'organizzazione di questa regata a seguito di bando insieme al Circolo del Remo della Vela Italia e da questa regata usciranno i primi 35 su 110 partecipanti, usciranno i primi 35 che si andranno a sfidare poi in una seconda selezione nazionale, quindi per ogni macrozona verranno selezionati 35-40 bambini e ci sarà la prima selezione di 160 nazionale. Da questi 160 ci sarà un'ulteriore scrematura di 80 bambini, da questi 80 i 10 che rappresenteranno l'Italia ai campionati europei e mondiali.